Applausi E' molto bello perché è delicato perché siamo tornati molto musicalmente su certi temi e nei testi molto sull'amore, a parlare ancora dell'amore. Questo mi fa molto piacere quando si parla dell'amore. E' l'amore che adesso poi c'è stata una rivalutazione dell'amore libero proprio da parte di sua santità, proprio da parte di Voetila. C'è stata questa rivalutazione che dalla Bibbia erano nudi e non provavano vergogna, che tutti siamo stati d'accordo perché effettivamente si erano accorti che avevano commesso, ma molto romanticamente, un errore. Perché secondo loro noi prima non potevamo mai fare all'amore se ci si pensassi. Faceva sempre peccato. Allora c'è questa rivalutazione perché quando siamo giovani, 13-14 anni, da soli non si può che si fa peccato mortale. Quando siamo più grandi si fa l'amore con una donna che non siamo sposati e non si può che è di peccato mortale. Se siamo sposati e mettiamo non si vuole figli, non si può perché si sciupa il frutto del Signore e tutta quella cosa niente. Allora si poteva fare all'amore solo sposati e quando si volevano dei figli. Allora due si sposavano, dice quanti figli vogliamo? Due. Bene, si fa l'amore una volta a 25 anni, una volta a 45, chi si è visto si è visto. E così. Allora però, ora il nostro Voetilaccione se ne è accorto e allora ha detto, è l'amore libero, libero amore. E io glielo dico sempre alle donne che incontro, facciamo l'amore libero, libero amore, perché dobbiamo libero amore, amarsi, sdraiamoci, sbatacchiamoci in terra, mettiti di sotto, spostati. E così anche a Olimpia, glielo ho detto diverse volte, ho detto però, Olimpia, facciamo l'amore, facciamo l'amore insieme, amiamoci. L'amore libero che si fa all'amore, solo che non è possibile invece... A questo punto qua, vorrei vedere Olimpia perché gli ho detto diverse volte, se era possibile... Madonna ragazzi, è bella proprio però, fa effetto proprio all'uomo umano. Venga avanti signorina. Cito, te lo so, cito. Ecco. Io, senti, se tu vuoi con questa cosa che ora... E non tornare un'altra volta. E lui fa per farsi notare ora, ora guardano noi. E' come se quando Gesù spezza il pane che va a mangiare, arriva San Pietro dietro. Guardano me, non possono guardare. Lui fa per farsi notare. Mi stiamo parlando dell'amore, stiamo. Io dicevo a Olimpia che noi dovremmo amarci e... E io sono, devo dichiarare, insomma, tu... Te veramente non me l'hai mai detto. Che cosa? Te l'ho detto io, semmai. Me l'hai detto te? Allora ripeti loro se hai coraggio. Che sa. Volesti fare l'amore qui in Eurovisione? Io per me, se te ti va bene, io... A me, lo sa, io sono un ragazzino bispo. E va bene. Se tu ti contassi. E ora mi viene un po' di... Cara Olimpia, l'ha detto lei, uno... Tu qui, qui hai detto che faresti anche l'amore. Sì, l'hai detto. Allora, andiamo... Silenzio, sono cose serie. Effettivamente. Grazie. Applausi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.